Buongiorno, ben trovati con le notizie di Rai News. Allora, prima di collegarci con il nostro corrispondente Alberto Romagnoli a Cannes, dove si sta svolgendo in queste ore il pre-vertice del G20, atteso ufficialmente alle 13 di oggi. Noi ci colleghiamo con il nostro inviato Pino Finocchiaro, che si trova alla stazione Tiburtina, dove c'è questo corteo promosso da vari licei della capitale, tra cui il Mamiani, il Virgilio e il Tasso, un corteo diretto al centro storico per violare l'ordinanza anticortei a Roma. Ma sentiamo allora il nostro inviato Pino Finocchiaro. Buongiorno Pino. Buongiorno, come vedete alle mie spalle, sono alcune centinaia di studenti che si sono riuniti qui sul piazzale dell'autoline della stazione Tiburtina, c'è un imponente servizio d'ordine. Il corteo non è autorizzato, quindi per il momento il corteo non è iniziato, si sono soltanto concentrati gli studenti di vari licei. La parola d'ordine, lo sapete, noi il debito non lo paghiamo, quindi anche qui sostanzialmente si contesta il G20 e la partecipazione italiana al G20. È per il momento una manifestazione abbastanza tranquilla, serena. Gli studenti sono tutti studenti medi, per la maggior parte quindi anche minorenni, molto tranquilli. Non ci sono black block, ci sono soltanto e-book block. C'è alcuni studenti che hanno messo i titoli di alcuni libri come scudo davanti a sé e soprattutto ripetono questo slogan che noi il debito non lo paghiamo. Per il momento la situazione è abbastanza tranquilla, c'è la volontà di seguire questa manifestazione. Noi abbiamo visto il servizio garantito da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza senza che accadano incidenti. Dall'altra parte gli animi sono abbastanza tranquilli, soltanto gli slogan. Teniamo presente che comunque ci sarebbero due violazioni. Una perché il corteo appunto non è stato autorizzato formalmente dalla Costura. L'altro perché il corteo vorrebbe arrivare in via 20 Settembre, quindi nella zona salustiana, che è un quartiere della prima circoscrizione, dove per un decreto del sindaco Alemanno non si possono tenere manifestazioni. Quindi il tentativo sarà anche quello di violare simbolicamente il primo municipio. Ma comunque questo ve lo segnaleremo quando finalmente il corteo si muoverà, se si muoverà. Grazie Pino. Allora noi ci collegheremo con te tra pochi minuti per sapere che cosa sta succedendo, se il corteo parte dalla stazione Tiburtina. Ve lo dicevamo, è in corso il vertice di Cannes.